ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale in quel caso vi invito a iscrivervi oggi parliamo di the bad guy la nuova serie prime video tutta italiana mamma mia prime video signori che cosa sta sfornando una serie dopo l'altra tutte stupende cioè è partita con bang bang baby e ora sullo stesso filone perché si parla sempre di mafia esce con questa the bad guy cioè che qualità che qualità sta portando nelle nostre case prime video poi ovviamente anche lì escono un sacco di cacate però il cinema italiano le serie italiane su prime video in particolare queste due mamma mia tanta tanta roba ma di cosa parla the bad guy the bad guy parla di questo magistrato antimafia nino scotellato interpretato da un eccezionale luigi locascio che praticamente per un motivo x che non sto qui a spiegarvi viene un po incastrato almeno quello fanno pensare nei primi tre episodi perché è uscita solo la prima parte di questa serie gli altri tre episodi tre e ultimi episodi usciranno il 15 dicembre comunque viene incastrato da questa famiglia mafiosa e viene incarcerato lui magistrato antimafia viene accusato di essere complice dei mafiosi cioè di quel boss che lui stesso cerca di catturare da anni allora un po come dice anche lui nel trailer poiché tutti hanno cominciato da ditarlo come mafioso lui ha decide a un certo punto non sto qui a spiegarvi i motivi ovviamente perché sarebbero spoiler decide a un certo punto di passare dal lato dei cattivi quindi di diciamo assumere un po l'identità del mafioso del bad guy appunto e diventare così balduccio remora cambia proprio identità da quel momento insomma lui continuerà il suo piano per acchiappare questo latitante che lui cerca di acchiappare da anni appunto e soprattutto è mosso da una promessa che lui aveva fatto tempo prima alla moglie interpretata da una eccezionale anche lei claudia pandolfi perché praticamente questo boss ha ucciso il padre della pandolfi quindi il padre della moglie di locascio e quindi diciamo c'è un po questo sentimento di vendetta di rivendicazione del suocero deceduto un po il fatto che lui è riuscito addirittura a incastrare questo ex magistrato e a farlo credere mafioso da chi lo combatteva la mafia insieme a lui e quindi tutte queste cose creano questo bad guy additarlo e additarsi come bad guy è un po un controsenso perché lui anche se passa dalla parte dei mafiosi il suo intento rimane comunque lo stesso di quando era magistrato quindi diciamo che passa dalla parte dei cattivi ma semplicemente perché potrebbe essere per lui una scorciatoia anche se sbagliata per raggiungere il suo scopo ho parlato poco fa di altissima qualità e lo confermo assolutamente i registi sono gli stessi di metti la nonna in freezer è assurdo pensare come due generi così distanti quelle una commedia veramente comica questo crime due generi così distanti in realtà se poi pensi che sono degli stessi registi trovi anche ci associa un po dei punti in comune perché così come metti la nonna in freezer parte da un'idea un po grottesca cioè il fatto di continuare a far vivere per lo stato la nonna deceduta per continuare a prendere i soldi e la pensione anche qui diciamo che il crime in the bad guy si mischia molto al al comico agli humor al a quel a quel comico però un po macabro un po appunto grottesco infatti non mancano le parti in cui si ride o non mancano le parti in cui ci sono tantissimi controsensi tra la scena e ad esempio la musica oppure la scena molto cruda è in realtà poi intervallata da momenti di dolcezzo momenti in cui delle persone ridono o dopo una scena cruda subito dopo una battuta che smorza questa tensione poi ripeto a livello di regia a livello di montaggio ci sono dei raccordi stupendi la scrittura è perfetta perché ci sono tantissimi personaggi e ogni personaggio è veramente ben caratterizzato e ha il suo peso all'interno degli episodi cioè ci sono tanti personaggi marginali ma che marginali non sono e anche quei personaggi che magari tu vedi una due volte massimo durante questi tre episodi e che magari sai già che non rivedrai più perché sono personaggi di passaggio comunque hanno il loro peso e apportano un significato agli episodi perché magari attraverso loro conosci sfumature degli altri personaggi e quindi la scrittura è veramente veramente bella c'è stata una cosa che inizialmente mi ha un po' fatto storcere il naso ma poi riflettendoci in realtà forse è stata una scelta abbastanza azzeccata in un episodio praticamente vanno a cena in un ristorante dove tutti i camerieri sono disabili e praticamente fanno affidano a uno di questi camerieri il compito di dare una notizia veramente crudele riflettendoci credo che sia stata una scelta davvero davvero intelligente perché hanno preso una persona che di base è nel nostro immaginario sociale una persona 100% innocente perché il ragazzino disabile è un ragazzino che appunto anzi ha un'elevata sensibilità una spiccata sensibilità una dolcezza come gli esseri umani normodotati non riescono ad avere quindi a delle persone con una sensibilità una sincerità una dolcezza così spiccata fare dire qualcosa di così cruento di così crudele forse crea quel contrasto di emozioni quel contrasto di sentimenti quello scontro che ti fa dire ok ok nulla veramente nulla in questa serie è fatto per caso ma ha tutto un senso e tutti i tasselli prima o poi si ricongiungono io non vedo davvero l'ora che escano gli altri tre episodi perché veramente è bella te la te la divori ti vedi un episodio dopo l'altro senza neanche accorgertene gli episodi durano 50 minuti e questo è uno di quei casi in cui non dico a non abbiamo bisogno di 50 minuti perché potevano essere accorciati no riempiono tutti e 50 minuti e non te ne accorgi cioè sembra veramente che passino 20 minuti perché esattamente loro hanno fatto 50 minuti perché avevano cose da dire per 50 minuti e avevano cose da dire per 50 minuti di tre episodi o di sei episodi perché penso e mi auguro che gli altri tre dureranno anche 50 minuti e queste sono secondo me le serie descritte dove non fai non hai un'idea di base buona e poi cerchi di allungarla per fare minutaggio ma hai un'idea di base buona e la sviluppi al migliore dei modi e hai tanto 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 da raccontare ma riesci comunque a tra virgolette condensarlo perché loro avendo così tanto a raccontare potevano fare episodi da un'ora e dieci un'ora e un quarto un'ora invece no tra virgolette nonostante 50 minuti siano tanti sono riusciti a condensare tutto in 50 minuti grazie anche complice un montaggio molto ritmato che ti permette di magari passare da un momento all'altro di fare anche dei tagli dei salti temporali che permettono comunque una perfetta e lineare totale comprensione pur non raccontandosi esattamente ogni singolo minuto che cosa succede e questo è veramente veramente bello io non posso far altro che consigliarvela questa serie mi ha veramente sorpreso perché è un prodotto italiano io l'avrei visto a prescindere sapete il mio amore per il cinema italiano poi questo comunque sapevo che era un prodotto di qualità per il cast per i registi perché il trailer faceva intendere fosse un prodotto di qualità ma non pensavo mi potesse piacere così tanto davvero che bello che belle queste serie italiane su prime che ti rendono orgoglioso poi io sono siciliano e diciamo da un lato mi dispiace il fatto che se si parla di sicilia si parla di mafia purtroppo però dall'altro sono contento per alcune scelte che sono state fatte e se mi dimentico che parliamo di mafia sentire l'accento di casa l'accento siciliano per me che ormai vivo fuori è comunque bello perché molte parti sono in siciliano nella serie ovviamente sottotitolate perché per chi appunto non è in siciliano magari può risultare difficile la comprensione però ecco queste cose rievocano un po' la nostalgia del siciliano che c'è in me e soprattutto sono contento che non abbiano preso altri attori di altre regioni per fare i siciliani che sembrano veramente le marchette ma abbiano preso tutti attori siciliani e che quindi risultano ancora più credibili mi dispiace che sia una serie sulla mafia sì però comunque una serie ben fatta e al di là della mafia ci sono tanti altri temi che vengono toccati magari attraverso la storia mafiosa ma si sfocia in altri temi che rendono il tutto estremamente godibile molto 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 bello io comunque vi ringrazio come sempre per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video vi invito come sempre iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e vi invito anche a lasciare un like al video perché per me è davvero davvero importante vi invito inoltre a lasciare un commento qua sotto commentino spoiler fatemi sapere se avete visto questi tre episodi se anche come me voi aspettate gli altri episodi con tantissimo hype o se invece vi ha deluso insomma per qualche motivo fatemi sapere tutto ma mi raccomando tutti i commenti non spoiler se invece vogliamo parlarne tranquillamente potete seguirmi su instagram e contattarmi in direct e lì ne parliamo senza fare spoiler a nessuno e io vi aspetto al prossimo video dai je